Ma te l'ho raccontato mai di quella volta che la luna mi ha salvato dalla furia del mare? Quando torni? Presto! Quando il tuo papà stava attraversando il mare con la sua grande barca, la luna non c'era e così non ha potuto salvarlo. Perché piangi? Il mio papà è stato rapito dal mare e nessuno vuole andare a salvarlo. Io saprei come fare. Allora vedi quel carretto? Vai verso il mare. È da stamattina che giriamo. L'abbiamo cercato dappertutto. Vigola! 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 Vigola!